Ciao a tutti da IOTA e bentornati sul canale. Quest'oggi proveremo a Tomashef, ma prima, tanti auguri a tutti di Buon Natale. Andremo a provare questo gioco perché siamo nel giusto giorno. Ovvero questo gioco è un gioco dove bisogna costruire e automatizzare un fast food, quindi parliamo di cibo. Andiamo subito a vedere il tutorial. Tutto l'e1 di base, tre ordinazioni, il consumo massimo deve essere inferiore a 500 wattora. Usa meno di 50 ingredienti e il nostro budget è questo. Dovremmo preparare un hamburger. Siamo a Natale, quindi cibo, cibo e tanto cibo. Allora, naturalmente, ciao umano, abbiamo un robottino che ci spiega un po' il tutorial. Ciao essere umano, grazie per aver risposto al mio annuncio pubblicitario aiutandomi nella creazione della mia nuova catena di ristoranti. Fai click per continuare. Ho intenzione di fare uso di cucine interamente autonome per ridurre i costi e schiacciare l'umanità. Cioè, volevo dire, per produrre piatti sani e gustosi in modo efficiente. Quelli che piacciono agli esseri umani come noi, giusto? Prima di iniziare con il nostro primo ristorante, dobbiamo collaudare il concetto. Ti ho affitato queste tre anni di prova da usare. Segui le mie istruzioni e assicuriamoci che questo mio business plan sia fattibile. Puoi spostare la telecamera con i tasti VSD, perché sto usando tastiera, se no si può usare anche il joypad. E scorrere tra i tipi di visuali, di visuale, utilizzando i tasti X e C. Puoi anche avvicinare e allontanare la visuale usando la rotellina del mouse. Iniziamo a creare una cucina elementare che può preparare soltanto hamburger semplici. Inizieremo collocando un assemblatore, un macchinario che unisce gli ingredienti per realizzare un piatto. Fai clic sull'assemblatore nell'elengo delle parti e metti, poi metti nella posizione contrassegnata. Le parti possono essere ruotate con i tasti Q ed E. Dovrai ruotare l'assemblatore in modo che le uscite siano rivolte verso il nastro trasportatore. Quindi andremo a sinistra, clicchiamo il nostro assemblatore, che ha il costo e anche quando consuma, e con i tasti Q ed E lo giriamo e lo mettiamo qui. Fantastico, ora fai clic con il tasto destro del mouse sull'assemblatore. Seleziona hamburger semplici, prodotto come piatto da assemblare. Adoro dire quegli stupidi macchinari cosa fare, proprio come faccio con te. Grazie. Quindi tasto destro, menu, quindi ricetta, hamburger semplici. Non ce ne sono altre perché abbiamo solo questa ricetta. Ok, facciamo ok per chiudere. Prima di collocare altri macchinari diamo uno sguardo alla ricetta per scoprire cosa ci servirà. Fai clic sul pulsante ricette per visualizzare la ricetta dell'hamburger semplice. Quindi questo tasto qua in alto a sinistra, ricette. Copre un po', però qua c'è l'hamburger semplice. Mmm, quell'hamburger sempre buono! I miei sensori di gusto, volevo dire le mie papille gustative, stanno impazzendo. Allora, secondo la ricetta abbiamo bisogno di un panino per hamburger e di una polpetta cruda che bisognerà cuocere. Che sarebbe quello, quello che noi chiamiamo carne trita o polpeto o hamburger, chiamatela come volete. Ci sono dei macchinari che possiamo usare per distribuire, cuocere e trasportare gli ingredienti. Chiudi questa scheda e premi ok. Ok, praticamente incominciamo a costruire un po'. Seleziona il distributore nell'elenco delle parti e mettine due nella posizione che ho contrassegnato. Non dimenticare di usare i tasti per ruotarlo. Quindi ne vuole uno e due. Adesso andiamo a fare clic col tasto destro del mouse e selezioniamo in uno mettiamo panino. Ok. E nell'altro metteremo la polpetta cruda. Questi distribuiscono qualsiasi materia prima ci serve, loro la distribuiscono. Ora che abbiamo modo di ottenere delle polpette crude, ci serve un mezzo per cuocerle. Una griglia sarebbe perfetta. Seleziona una griglia dall'elenco delle parti e mettila nella posizione che ho contrassegnato. Quindi è sempre qui. Griglia. E l'andremo a mettere qui. Allora, la griglia non ha nessun senso, potete metterla come volete. Ovvero, non è che non ha nessun senso, non ha un senso per far uscire o entrare gli oggetti. Quindi potete metterla, ruotarla come vi piace a voi. Perfetto, spostiamo quegli ingredienti, seleziona il nastro trasportatore dall'elenco delle parti, collocalo nelle posizioni, collocalo. Collocalo. Collocalo è stupendo. Buon Natale a tutti. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, che ho contrassegnato. Ricordate di ruotarlo usando i tasti Q&A, in modo che possa trasportare gli ingredienti nell'area dell'assemblatore. Ok, quindi quello che vuole lui è 1, 2, 3, e questo qua. I nastri trasportatori non possono introdurre il cibo direttamente in una griglia o nel assemblatore. Quindi c'è bisogno di un robot per gestire il tutto. Quindi andiamo a prendere un robot semplice. Lo mettiamo qui, con l'essenza della freccia, qui e qui. Un po' alla factorio. Il bip del robot è veramente odioso. Ok, dobbiamo prelevare le polpette cotte dalla griglia, posizionarle nell'assemblatore. I bracci robot semplici prelevano qualsiasi cosa, quindi prenderanno una polpetta cruda non appena le trovano davanti. Quindi ci serve un braccio intelligente che si possa configurare. Quindi questo lo mettiamo qui, perché i bracci semplici non si possono configurare, ma questo sì. Infatti adesso andiamo a fare tasto destro. Ok, tasto destro. E gli diciamo che andiamo a prendere qua, cosa? Una polpetta cotta. In modo tale che quando questo braccio vede una polpetta cotta, la prende da qui e la mette qua dentro. Lui assembla il panino. Facciamo il collaudo e vediamo come funziona. Iniziamo con questo pulsante. Abbiamo anche le velocità con 1, 2, 3. E come vediamo, escono dei panini, l'hamburger vengono cotti, passano dentro il nostro assemblatore che prepara il nostro hamburger. L'hamburger preparato viene messo in altri rasti di asportatore e via al cliente. Questi qua, che vedete sulla sinistra sotto il ristorante, sono gli ordini. Qui abbiamo l'elettricità usata, i piatti serviti e questo è il report finale, come sempre, con l'efficienza. Perfetto, vuole che rendiamo più efficienti i nostri macchinari. Perfetto, andremo qua. Tutorial lettore di ordinazioni, che è il secondo tutorial. Questo vuole 5 ordinazioni, consumo energetico e ingredienti. Iniziamo. Allora, piccole battute. Ah, se di nuovo qui stavo giusto convertendo l'ossigeno in adetrite carbonica, come faccio, come facciamo noi umani, giusto amico? Questa è bellissima. Ok, è il momento di imparare a rendere le nostre cucine più efficienti per non sprecare ingredienti ed energia. Ma prima di tutto dobbiamo terminare la configurazione di questa cucina. Attualmente è predisposta per preparare hamburger semplici, ma io ho bisogno che produca cheeseburger. Quindi andiamo a vedere com'è fatto un cheeseburger. Esatto. Andiamo a vederlo. In questo caso abbiamo bisogno di, oltre che la nostra polpetta cotta e l'hamburger, anche del formaggio. E il formaggio deve essere affettato. Aspetta, questo assembratore ha già due bracci robot che introducono ingredienti, non può averne di più. Esatto. Se aggiungiamo formaggio dovremmo trasportare l'assembratore sullo stesso nastro, trasportando usando, usato dai panini hamburger, questo qui. Il braccio robot semplice che sta prelavando i panini, per hamburger prenderà qualsiasi ingredienti, quindi sarà in grado di collocare anche la fetta di formaggio. Fai clic sul distributore dall'elenco nelle parti e mettono nella posizione contrassegnata. Ruolano con i tasti Q ed E, in modo che sia rivolto verso l'assembratore. Perfetto. Quindi lo andiamo a posizionare qui. Gli andremo a fare il tasto destro, diciamo che da qui dovrà uscire il formaggio. Ora ci serve un mixer per trasformare il formaggio in una fetta di formaggio. Il mixer praticamente taglia, lavora le parti. Quindi andremo a prendere un mixer e non c'è bisogno di braccio automatico. Quindi possiamo metterlo subito accanto al nostro distributore e prendete il distributore e passerà al mixer le fette di formaggio. E infatti ce lo dice qui, ok. Ora non ci resta che riconfigurare l'assembratore. Fai cliccare nel tasto destro e gli diciamo di produrre il cheeseburger. Il nostro cheeseburger è pronto e andiamo a vedere cosa succede. Esce l'hamburger. C'è il nostro bella cottura. C'è l'hamburger. C'è il formaggio che viene tagliato, come vedete. E questo è il nostro assembratore che produce i nostri cheeseburger. Che vanno al cliente. Ok. Diciamo che ci siamo quasi. Gli ultimi due hamburger. Cheeseburger. Ci siamo. Uno è andato. E l'altro pure. Esatto. Questa cucina ha un difetto. Prepara cheeseburger all'infinito. Che sprego gli ingredienti e soprattutto gli elettricità. L'uso improprio di elettroni mi rende triste e mi fa arrabbiare. Gli ingredienti vengono distribuiti continuamente e la griglia è sempre accesa, anche se nessuno ha ordinato i cheeseburger. Non si può andare avanti così. Possiamo risolvere il problema inserendo un lettore di ordinazioni per garantire che i cheeseburger siano preparati soltanto quando arriva un'ordinazione. Seleziona il lettore dall'elenco e mettono nella posizione evidenziata. Quindi andiamo qui. Prendiamo un selettore di ordinazioni che controlla le ordinazioni. Fai clicco col pussante destro sul lettore di ordinazioni e impostalo per rilevare le ordinazioni di cheeseburger. Quindi cosa vogliamo dirgli? Cheeseburger. Ora che il lettore di ordinazione è in grado di rilevare le ordinazioni di cheeseburger, possiamo utilizzarlo per controllare fino ad altri quattro macchinari. Ora selezioniamo su questo nuovo collegamento e andiamo a cliccare col sinistro sul primo distributore, quello di formaggio. E andiamo a dirgli esegui l'operazione uno alla volta, quindi esegui l'azione una volta sola. Ok? Qui potremmo dirgli due, tre, quattro, ma a noi ci serve una volta sola. Quindi esegui questo. Ora andiamo a selezionare un altro step perché si può programmare quattro volte, si possono collegare quattro macchinari. Quindi è per ogni lettore di ordinazione. Per la polpetta la stessa cosa. Ne colleghiamo un altro distributore che è questo e gli andiamo a dire la stessa cosa anche a questo. Ed è l'ultimo. Andiamo alla griglia. E la griglia possiamo dirgli che si attiva quando c'è un'ordinazione in sospeso. Ora questo cosa abbiamo fatto? Praticamente quando c'è un ordine la nostra cucina lavora. Quando non c'è un nessun ordine, non è arrivato nessun cliente, la nostra cucina si ferma e si spegne tutto. Questo per risparmiare sia ingredienti che elettricità. Di questi lettori ne possiamo mettere quanti ne vogliamo. Iniziamo. Infatti come vediamo, sulla sinistra appaiono le ordinazioni dei clienti che simulerà qualcuna. Simulare mi sembra di essere una macchina che assolidà. Ok, infatti non c'è nessun'ordinazione ed è tutto spento. Come vedete l'elettricità usata è pochissimo e gli ingredienti non escono. Quando arriverà l'ordine, eccolo qui, qui c'è il nostro step. Queste macchine qua hanno dei numerini per fare degli step, per simulare un po' così. Quindi la programmazione numerica a bordo macchina, nelle industrie, e incominceranno a lavorare. Solo quando c'è un ordinazione. E infatti i nostri hamburger escono e vanno dal cliente. Acceleriamo un attimo il processo. Fino ad arrivare a avere cinque ordinazioni. Perfetto. Nessuna delazione. Ok, abbiamo finito. Da qui in poi il tutorial è finito. Da adesso in poi avete tutta la base per continuare il gioco ed arrivare fino alla fine. L'ultimo piatto. Bene, signori, io spero che questo video vi sia piaciuto, che stiate passando un bellissimo Natale. Siamo in periodo di festa e quindi mi sembrava giusto portarvi un giochino, una preview sul cibo. Mi raccomando, passatelo benissimo con la famiglia, gli amici, con chi volete. Ovunque voi siate, divertitevi, ma soprattutto mangiate bene. Da Iota, buon Natale a tutti. Quindi vi auguro di nuovo e nuovamente delle buone feste ed alla prossima, come sempre, siete mitici. Bye bye! Bye! Ciao a tutti